Grazie Donino, è chiaro, lui la vede in un altro modo, io sono dell'idea che forse la scuola una volta era un'altra cosa, ma i tempi sono passati, i tempi sono cambiati, è come se noi volessimo ragionare con la nostra idea nel 1890, non si può fare e anche ora vogliamo ragionare nel 2023 con l'idea del 1990, è chiaro che l'evoluzione c'è, però poi non ci lamentiamo, quella scuola non è più come quella di una volta, i nostri giovani non sono più come quelle volte tatuati, con le cose, non dico una parola, a proposito dei giovani, il questore ci comunica che hanno intensificato ogni sabato e domenica i controlli in tutta la zona dell'Ipparino, Vittoria, Comiso, Santa Croce, tutte queste zone dove si sono verificati nel passato episodi particolari, ci sono stati dei controlli, segnalate molte persone, sono stati fermati alcuni, insomma io ringrazio il questore per lo sforzo che ha fatto, perché da quando è arrivato lui onestamente è stato intensificato tutto questo servizio interforze, perché sono carabinieri, guardia di finanza, polizia, tutti quanti sono insieme e sapere che ci sono questi controlli secondo me servono per la sicurezza, su questo assolutamente non possiamo dire di no, anche perché abbiamo visto episodi che sono accaduti in altri posti, ma anche da noi che poi sono andati bene, grazie a Dio non ci sono stati morti, ma anche da noi ci sono stati alcuni episodi che non rientravano nella fattispecie della movida, quindi la serie dei ragazzi che esagerano un po', però il controllo della polizia e delle forze dell'ordine è importante. Spostiamoci per due iniziative, andiamo un attimo a Palermo, a Palermo, anzi a Cefalù, sabato e domenica ci sarà la seconda tappa del progetto Palermo del mare, ce lo comunicano gli amici di Bici Sicilia con l'amico Locascio, perché? Perché guardate, ecco noi siamo contenti di questo street food, ma giustamente il mare ci dà tante altre possibilità, quindi questo è un appuntamento che promuove la valorizzazione delle coste siciliane attraverso rappresentazioni artistiche, fotografie, testi prodotti, però naturalmente ci sono, si andrà anche a bordo di imbarcazioni a vela e naturalmente c'è anche la possibilità poi di concludere in bellezza, perché queste cose finiscono sempre, come si dice, a taralluce e vino. Comunque è interessante, io ringrazio Bici Sicilia, che ci manda queste notizie che fanno parte all'interno delle giornate europee del patrimonio e del Fabriano Festival del disegno. Va bene, allora, un'altra cosa che finisce sempre a vino, abbiamo un servizio che riguarda le vie del vino, perché da noi in Sicilia il vino è molto importante, molto interessante, però secondo me noi non siamo così bene organizzati come fanno in altre regioni d'Italia. Ricordo per esempio di essere stato in Abruzzo e in Abruzzo lì ogni settimana c'è un'organizzazione di vini che fanno le cantine aperte, le degustazioni e c'è tanta gente che è diventata esperta di vino andando a frequentare queste. Una volta che sei esperto di vino, poi ti devi comprare il vino un po' più buono, perché è che taccati le cose più scarse. No, quindi è chiaro che se si iniziasse a fare più promozione, e noi siamo a disposizione, facciamo questo lavoro, più promozione nella zona del Trapanese, nella zona di Versal, di Menfi, nel film. Ci sono tantissime cose, tantissime cantine che potrebbero essere visitate da noi degustando e cose del genere. Benissimo. Quindi vedrete questo servizio. Subito dopo c'è Gianni Papa con Elio Criscione. Questa volta non parliamo del PET, cioè dell'animale di compagnia. Elio farà con noi una trasmissione, però parliamo di un problema che è stato sollevato, che è quello del randaggismo a Ragusa, zona dell'artigianale, zona dell'industriale, e Gianni Papa chiede a Elio cosa si può fare per risolvere questo problema. Io vi ringrazio per l'attenzione, seguite gli ultimi due servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.